Qui a Cioccolato presentate una pietanza deliziosa, molto particolare e ancora una volta si sposa il salato, diciamo così, la tradizione anche del Piemonte con il cioccolato. Presentiamo una battuta di fassone, un viaggio in Torino e in Piemonte perché utilizziamo un vermut al cacao tipico di Torino, un taglio di carne di fassona tipico del Piemonte, cioccolato tipico di Torino e una pera tipica del Piemonte in varie consistenze, una spugna sifonata e poi essiccata per renderla croccante, le pere sfumate in questo vermut favoloso torinese e un assaggio un po' diverso tra il dolce e il salato che però può essere replicato in casa tranquillamente. Anche in questo caso possiamo dire un matrimonio di gusti veramente speciale e, come dicevi tu, veramente piemontese. Sì esattamente, Torino e Piemonte sempre in primo piano, sicuramente è un abbinamento che nei ristoranti io personalmente utilizzo già, quindi il riscontro è positivo, però poi è sempre molto personale la cucina e le ricette. Dicevi che comunque in casa si può cucinare facilmente. Sì 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 sì, assolutamente, un qualche mare accorgimento per alleggerire la tecnica, però si può fare tranquillamente.